Noi siamo di S.G.E.P. Skills in Work-Life Analysis Game e siamo Natalia Altomari, Luca Altomari e Daniele Miniaturo. Proveniamo da tre mondi diversi, psicologia, ingegneria e giurisprudenza e ci siamo appunto la nostra idea e il risultato è una delle tre idee vincitrici del primo ciclo del Condamination Lab dell'Università della Calabria. Noi vogliamo mettere in connessione quello che sono i giovani in cerca di lavoro con le aziende e lo facciamo tramite un'app mobile che dà accesso a una serie di esperienze di gioco che appunto rilevano e mappano quelle che sono le Work-Life Skills, le abilità utili oggi nel mondo del lavoro. Allo stesso tempo all'azienda offriamo dei profili per un candidato che abbia le caratteristiche ideali a ricoprire una determinata posizione aperta, quindi lavoriamo per lo più nel campo delle risorse umane. Siamo felicissimi di aver partecipato e vinto questa competizione di Resto al Sud anche nell'ottica di dare qualcosa e incentivare l'imprenditorialità nel nostro territorio. Grazie.